La capitale è sempre più ciclabile anche in vista del giubileo straordinario, sono molti i progetti per appassionare i romani e i turisti. Intanto già fra qualche giorno, sabato, ci sarà una bella appuntamento per gli amanti delle due ruote con la Magna Longa. Stefania Zane. Andare fino in centro in bicicletta, magari passando da un posto così. Siamo al parco di Monteciocci, una pista ciclabile lunga 5 km lo collega da un lato a Montemario e dall'altro alla stazione di Valle Aurelia. Per il giubileo si pensa di allungare la pista fino a San Pietro, è un pezzo del progetto che dovrebbe collegare tutti i tratti di ciclabili della capitale fra di loro. La cifra necessaria si aggira tra i 2 e i 4 milioni di euro. L'assessore alla mobilità del Comune di Roma, Guido Improta, annuncia l'installazione di 6.000 stalli per le bici vicino alle metro e alle stazioni ferroviarie. Sul tavolo anche il progetto dell'associazione Velo Love e Lega Ambiente di un altro anello per le due ruote più grande sulla falsariga del raccordo anulare, il Grab 44 km rotti di cui l'80% è già pronto. Noi vorremmo che il Grab diventasse sempre più il Grab dei parchi, quindi a partire da quelle stazioni che sono dentro a uno dei parchi sulla Niene, l'idea è quella di mettere intanto in rete dal punto di vista ciclabile tutti i 14 parchi più la riserva marina di Roma Natura. E sulle due ruote si apprezzano a salire anche i guardaparchi. Servirà un po' per aiutare l'aspetto della mobilità sostenibile, un po' anche a noi per accedere in zone dove normalmente non si riesce ad arrivare con i mezzi meccanici. E per cominciare ad allenarsi, ma con gusto, l'appuntamento è per sabato prossimo. Per il settimo anno animiamo 5 piazze romane con un percorso di 25 km con oltre 500 ciclisti degustando in ogni tappa le eccellenze gastronomiche del nostro paese. Ospiti d'onore, i fichi bianchi del Cilento da Marina di Camerota, i formaggi toscani di Castiglione della Pescaia e la norcineria di Roccapriora.